Su questa cosa qua ci siamo giocati la reputazione sia io che Felice Manti, perché devi pensare che quando inizia il processo nel 2008 noi veniamo linciati dall'opinione pubblica, dai giornali, dalle televisioni, perché eravamo due giornalisti contro tutta la stampa italiana. È da un po' che non la facevamo, ma questa è tornata ad essere una puntata dell'Anamnesi, cioè il format dove facciamo le interviste. Questa sera sono qui con Edoardo Montolli, che ha scritto insieme a Felice Manti questo libro che si chiama Il Grande Abbaglio e che racconta la storia, o meglio una parte della storia, ma molto interessante vedrete, della strage di Erba. Edoardo, benvenuto. Grazie, grazie a voi. È un piacere averti qui, in questo momento soprattutto perché lo ripeto, ma chi mi segue lo sa, insomma te l'ho già detto, io non sono un grande esperto di questa storia giudiziaria tutt'altro, la conosco perché ovviamente per ragioni banalmente diciamo geografiche vivo vicino, relativamente vicino a dove è accaduto, quindi chiaramente mi ha colpito quando è successa e come tanti ho scoperto che insomma man mano c'erano dei dubbi sulla realtà che conosciamo e cioè la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio di Olin De Rosa grazie al fatto che tu sei nato in televisione, insomma sappiamo le Iene e Monteleone hanno fatto un grande servizio sulla vicenda. Non tanto che hai scritto questo libro perché purtroppo in Italia si legge poco o sbaglio? Sì, credo che sia un paese dove non si legga assolutamente, non si legge poco. Diciamo che le cose che abbiamo avuto modo di raccontare alle Iene in questi anni sono le cose che avevamo scritto nel 2007 e nel 2008. inizialmente sul giornale, poi nel libro, nella prima versione del libro, il grande abbaglio perché quello che hai fatto vedere è la versione aggiornata con le scoperte successive che abbiamo fatto negli anni e che ho in parte pubblicato sul settimanale Oggi e in uno speciale sul sito del settimanale Oggi. Tant'è che quando le Iene iniziano a mostrare ciò che avevamo raccontato molti anni prima, la gente si è stupita. Si è stupita e per come era cambiato il ricordo del testimone Mario Frigerio e per quello che erano i dubbi sulla macchia sull'automobile di Olindo Romano e soprattutto per quello che riguarda le confessioni, che io ricordo in primo grado furono definite dettagliatissime. In appello, quando venne fuori che dettagliatissime ne lo era fatto, i giudici stabilirono che Olindo e Rosa avevano mischiato il vero al falso per tenersi aperta una finestra alla ritrattazione futura, una cosa che non ho mai sentito in vita mia, e comunque erano colpevoli lo stesso. Queste confessioni di fatto sono in realtà una cosa che secondo me tutti dovrebbero ascoltare, perché sono dei deliri totali. Olindo e Rosa non hanno idea di nulla di ciò che sia accaduto, non sanno che la strage è stata commessa al buio, non sanno dove sono state colpite le vittime, come sono state colpite le vittime, non sanno nulla. E allora quando iniziamo a leggere prima i verbali, prima ancora dell'ascolto di queste confessioni, ci accorgiamo di cose veramente bizzarre, tipo Rosa che all'inizio confessa di aver fatto tutto da sola, e poi mentre confessa continua a chiedere ai magistrati, è giusto? E' giusto? Ma com'è possibile che un colpevole chieda ai magistrati se quello che sta raccontando è giusto? E ovviamente non era giusto, perché gli avvocati conteranno nella confessione di Olindo 243 errori, uno ogni 30 secondi, praticamente ogni scena descritta. In Rosa non si potevano nemmeno calcolare. E questo per una ragione molto semplice, perché quando Olindo e Rosa vengono arrestati, i due sono intercettati in carcere, sono lasciati da soli in carcere, e Olindo dice a Rosa, e questo lo mettiamo all'interno, diciamo una delle aperture del grande abbaglio, che lui ha letto il coso, il coso sarebbe l'istanza di fermo. E nell'istanza di fermo era ricostruita la scena del crimine, ed è quello che Olindo andrà a confessare. Rosa invece non può fare la stessa cosa che ha fatto il marito, perché Rosa non sa leggere. Ragione per cui tutto quello che racconta lei non sta né in cielo né in terra, non torna per nulla con la ricostruzione dell'accusa. E allora ha un'idea, chiede ai magistrati se possono farle sentire tutto quello che ha detto il marito. Ai magistrati glielo fanno sentire, e quando usciranno i magistrati diranno che le confessioni combaciano. Ma se tu hai riletto le dichiarazioni alla donna e lei ha detto è giusto, è giusto, è giusto, le cose non tornano, non puoi sapere se la confessione è genuina. Tra l'altro c'era anche un episodio abbastanza grottesco all'interno della confessione, perché Rosa diceva è vero, è vero, è vero, e a un certo punto il suo avvocato d'ufficio, che all'epoca era Pietro Troiano, gli disse no signora, questa è la prima versione di suo marito, e quindi è quella vera. Fa no, la seconda versione è diversa, la seconda versione è un'altra. Lei fa perché la seconda è diversa, perché non aveva nemmeno idea di questo. Se non che ai coniugi, quando confessano, vengono mostrate anche le fotografie. Questo lo ammette serenamente anche il pubblico ministero Massimo Astori durante la requisitoria. Anche Vazzirosa non si scompone. Sul cavolo le foto, alcune foto del massacro. Se non che tuttora oggi, in alcune trasmissioni televisive, si negano fatti che sono ormai acclarati, appunto il fatto che loro avessero visto le fotografie. e quali fotografie avevano visto. Io questa cosa scrissi la prima volta sul settimanale Oggi, credo nel 2010, durante la confessione di Olindo, a Olindo vengono mostrate le foto di Paola Galli, che era la mamma di Raffaella Castagna, e gli viene chiesto come era vestita la vittima. Naturalmente non viene messa verbale che stavano guardando le foto, che Olindo stava guardando le foto. Ma il pubblico ministero, uno dei pubblici ministeri, dice va bene, passiamo alle altre foto e questione. La frase altre foto non viene trascritta sul verbale, ma erano quelle evidentemente le foto che stavano mostrando all'indagato. Perché non viene trascritta sul verbale? È una cosa usuale? Che un errore viene corretto? No, questa non è affatto una cosa usuale, però bisognerebbe chiederlo ai magistrati o a chi ha fatto le trascrizioni, perché non sia stata trascritta alle altre foto, e sia stato trascritto alle altre questioni. Di fatto il GIP non lo saprà mai che loro avevano confessato guardando le foto, ma c'è un dettaglio che è fondamentale per quelle confessioni. Come ho detto, quella strage fu compiuta al buio, perché la luce in quell'appartamento era stata staccata alle 17.40. L'11 dicembre del 2006, alle 8 di sera, a Erba, era buio pesto come in qualsiasi altra parte d'Italia. Secondo un vicino di casa, peraltro, anche se su questo non abbiamo il conforto dei verbali, perché non c'è nulla sui verbali, gli Antoni della casa di Raffaella Castagna e Azuz Marzucca erano chiusi. Ma anche se non fossero stati chiusi, all'esterno era buio. Chiunque abbia commesso quel massacro alle 8 di sera in un appartamento dove era buio pesto non poteva vedere alcunché. Per questo i dettagli che hanno raccontato l'Indo Romano e Rosa Bazzi potevano saperli soltanto guardando le foto, perché nemmeno gli assassini, con il buio pesto che c'era, avrebbero potuto descrivere come erano vestite le vittime. Questo è un particolare fondamentale del quale peraltro mai si è discusso al processo. Ma ci sono delle foto dei vigili del fuoco scattate alla una di notte, che io ho messo all'interno del podcast per far vedere qual era la situazione di visibilità in quell'appartamento, che nonostante un faro acceso all'interno del corridoio, mostra appena in evidenza un vigile del fuoco con il giubbotto fosflorescente. Si vede a malapena lui in lontananza alla una di notte con un faro acceso. Figuriamoci senza alcuna luce. In quell'appartamento non si vedeva un bel nulla. Questa è la drammatica realtà. Poi diciamo che le confessioni arrivano per una ragione ben precisa, perché a un lindo romano a un certo punto viene detto che lui non vedrà mai più sua moglie e che l'ultima volta che la vista è stata cinque minuti prima. Lui ne parla con Rosa, perché in realtà poi gliela fanno vedere, e dice che ha intenzione di confessare. In realtà la prima a confessare è Rosa, che al marito aveva detto poco prima ma cosa c'è da confessare quando erano intercettati? Non siamo stati noi. E perché lui vuole confessare? Perché gli avevano detto che con gli elementi che avevano in mano loro avrebbero preso certamente l'ergastolo in due minuti, in pochi minuti. E che cosa avevano in mano? Avevano in mano il riconoscimento fatto da Mario Frigerio, il superstite, e una macchia di sangue sul battitacco dell'auto di Olindo dalla parte del guidatore. E sull'istanza di fermo c'è scritto che Mario Frigerio coerentemente dal 15 di dicembre del 2006 al 2 di gennaio del 2007 aveva riconosciuto Olindo come suo aggressore. Ma questo non è vero. Anche se l'istanza di fermo lo porta in questa maniera, non è vero. Il problema è che ce ne siamo accorti, io e Felice Manti, a 11 mesi dall'arresto. Perché Mario Frigerio, la prima volta, il 15 dicembre del 2006, davanti al pubblico ministero Simone Pizzotti, aveva riconosciuto un uomo olivastro, esperto di arti marziali, che non aveva mai visto prima e che invitava a cercare tra gli extracomunitari di etnia araba che frequentavano casa Castagna Marzouk. Era talmente convinto di questa descrizione che il giorno successivo il suo avvocato, oggi scomparso, Manuel Gabrielli, inviava un fax in procura dicendo che Mario Frigerio ricordava che l'aggressore era più alto di lui tra i 6 e i 10 centimetri. Poi questo ricordo muterà radicalmente. a partire dal giorno 20 di dicembre, quando il comandante dei carabinieri di erba Luciano Gallorini andrà di sua spontanea iniziativa in ospedale da Mario Frigerio e gli chiederà se per caso l'uomo olivastro sconosciuto è più alto di lui non potesse essere invece il vicino di casa bianco, notissimo, è più basso di lui. Glielo chiederà 9 volte anche se in aula diranno di non avergli mai fatto il nome. Però ripeto, ma provando all'Olimpo allora, potrei essere l'Olimpo. Adesso che ci ha pensato, quindi è venuto in mente, perché è lei che c'è in casa. La domanda, potrebbe essere l'Olimpo? Poteva essere, cioè, lei mi sembra dubbioso. Ok, mi diceva subito, è lui, è lui, è lui, il soggetto, non l'Olimpo. Quello che era detto l'Olimpo. Mi ha messo il dubbio? Però, ha detto che lei è tornato, non lo escluderebbe. Mi viene in dubbio. E' questo dubbio cosa da cosa da cosa, da cosa. Tutto l'insieme. Il modo di guardarla. Beh, mi parla di quello l'Olimpo. Ecco, e, 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 se vi permette. Quindi, ricordando quello sguardo, e, 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 ripensando al fatto, forse, mi viene un po' di dubbio. Mi viene un po' di dubbio. Mi viene un po' di dubbio che potrebbe essere lui, o mi viene un po' di dubbio che non potrebbe essere lui. Si dirà, allora è da quel momento che Mario Frigerio ha riconosciuto in Olindo il suo aggressore. Questo è quanto dichiara Mario Frigerio in aula al processo. Ovvero, che dal 20 dicembre, dal momento in cui il comandante Gallorini gli fece il nome di Olindo, lui si liberò di un peso e finalmente ammise che ad aggredirlo era stato il noto vicino di Casa Bianco. benché non si capisca per quale ragione avesse descritto prima tutt'altra persona. Tuttavia, questo non è vero. E non è vero, lo possiamo affermare, con le parole dello stesso Mario Frigerio, che io ho messo all'interno del podcast, in audio che non sono mai entrati nei processi e che sono successivi a quel 20 dicembre del 2006. Ovvero, il 22 dicembre del 2006, due giorni dopo l'incontro con Gallorini, l'avvocato di Frigerio arrivava in ospedale da Mario Frigerio, che era intercettato, e gli chiedeva se si ricordasse qualcosa dell'aggressione. E in una lunghissima intercettazione si evince che Mario Frigerio, la cui voce è veramente bassa per via del taglio che aveva subito alla gola, non ricorda assolutamente nulla dell'aggressione. Dovrebbe cercare, questo glielo lo do, io come consiglio, dovrebbe cercare piano piano di rivivere la giornata, non solo i momenti, magari anche la giornata o qualcosa, quindi i giorni prima con l'assoluta calma, non adesso con l'assoluta calma, cercare di rivivere i momenti anche di qualche giorno prima, se la sua moglie le disse mai qualcosa riguardo, che ne so, di qualche persona che frequentava, che non aveva mai visto, e ciò che può essere stupido, però lei deve pensare che i procuratori non erano presenti, e quindi lei deve come descrivere un film, e nel descrivere un film dovrebbe dire io sono arrivato, mi ricordo, non so, c'era una bicicletta rossa da quelle parti, c'era la macchina di un vicino da quell'altra parte, devo dare una descrizione più generale possibile, anche lì, c'è qualcosa che per lei è assolutamente normale. Eh, lo so, che uno non ci fa più calda. Eh, lo so, lo so, dovrebbe cercare di magari se le viene in mente un qualcosa, una cosa che può essere lì. Il 24 di dicembre, due giorni più tardi, e siamo già a quattro giorni, dal presunto riconoscimento dichiarato in aula da Mario Frigerio, i figli dicono al padre, al Mario Frigerio, che il 26 a Santo Stefano verranno i magistrati da lui, e lui decide di non avere nulla da dire ai magistrati. Praticamente quello che c'è giù, quello biondo con i pochiani, mi ha detto che martinio e mattinio e 10 c'è qua il magistrato, però richiede la nostra presenza. Ah, mi ero giocato. Eh, sì, lo diciamo anche l'avvocato. No, papi, pensavo che magari ci fosse... No, volevo sapere se c'erano qualche novità. A questi due audio si aggiungono i verbali dei figli di Mario Frigerio, Andrea e Elena, che il 21 dicembre e il 23 dicembre, ovvero un giorno dopo e tre giorni dopo l'incontro tra il padre e il comandante Gallorini, al quale loro avevano assistito, dichiarano a verbale che il padre non ha mai cambiato idea e che ad aggredirlo è stato un uomo olivastro. Il nome di Olindo in quei verbali dei figli non c'è. Non c'è nemmeno il nome di un vicino, non c'è nemmeno il sospetto di un vicino. Il 26 dicembre, quando arrivano i magistrati, Frigerio fa dunque il nome di Olindo. Almeno questo è quello che abbiamo saputo dai processi. In realtà, tra le nuove prove presentate dalla difesa, esiste una perizia su questi audio dell'equip del professor Sartori, che è ordinario di neuropsicologia all'Università di Padova, il quale sostiene che nemmeno il 26 dicembre Mario Frigerio fece il nome di Olindo a IPM, anche se nella trascrizione c'è scritto subito l'Olindo. Secondo Sartori, quella frase sarebbe subito l'ho visto e Mario Frigerio non fece nemmeno in quell'occasione il nome del vicino, ma furono soltanto i PM a farglielo. Ora, questa è un'interpretazione del professor Sartori. Però, se questa interpretazione fosse esatta, ci sarebbe un formidabile riscontro alla perizia del professor Sartori. Perché? Perché quando i magistrati, il 26 dicembre, se ne vanno, assumendo come certo che Frigerio ha riconosciuto Olindo come suo aggressore, arriva nella stanza di Frigerio il suo avvocato Manuel Gabrielli e ancora per l'ennesima volta in una lunghissima intercettazione che ho messo all'interno del podcast, Mario Frigerio non ricorda assolutamente nulla del suo aggressore. In mezzo a tutte queste cose c'è un ulteriore episodio che io scovai alla vigilia della Cassazione, pubblicai sul settimanale Oggi, e che oggi è entrata anche nella richiesta di revisione del sostituto PG di Milano Cuno Tarfusser. Ovvero che cosa? Io mi chiesi come fosse possibile che il 24 dicembre Mario Frigerio avesse detto ai figli di non aver nulla da dire ai magistrati e il 26 avesse riconosciuto Olindo. E continuare ad ascoltare ripetutamente queste intercettazioni finché in un'intercettazione del 26 pomeriggio tra Andrea che è il figlio di Mario Frigerio e gli zii che si trovano nella stanza di Mario Frigerio scopro che Andrea disse agli zii o ieri mattina vengo qua o non ci sono i carabinieri fuori dalla stanza o dove sono? Erano dentro a parlare con lui. Ieri mattina arrivo qui in ospedale dal padre alle 7.03 del Natale del 2006. Quindi il giorno prima? Il giorno prima. Perché lui aveva detto agli zii ieri mattina vengo qua. E in effetti mentre lui arriva si sentono delle persone che escono e lui dice al padre erano dentro a salutarti poi cambiano discorso. E allora io dico va bene sentiamo che cosa c'era prima. Ecco il problema è il seguente che dalle 6.20 mi pare fossero le 6.20 del 25 dicembre del 2006 alle 7.03 momento in cui arriva Andrea agli atti non c'è nulla non c'è un brogliaccio non c'è un audio come se in quella stanza non fosse successo niente. Questa cosa non è possibile perché per far capire l'ascoltatore le micro spie si attivano anche se soltanto si apre una porta si apre un rubinetto non c'è niente si scrive rumore di porta rumore di rubinetto non utile invece agli atti non c'è proprio nulla e questo non è possibile. Ecco questo è il punto perché la vera domanda che pone la nuova prova è la seguente cioè se nemmeno il 26 Mario Frigerio ha riconosciuto Olindo Romano come suo aggressore quando è che ha cambiato idea ed è passato dall'uomo olivastro sconosciuto e gigante all'uomo bianco notissimo e più basso di lui forzatamente nei giorni successivi al 26 succede questo che il 27 di dicembre i magistrati mandano il neurologo dell'ospedale il dottor Cetti da Mario Frigerio il dottor Cetti prova a assaggiarne come possiamo dire le capacità cognitive gli fa fare alcune semplici operazioni di matematica e si accorge che Frigerio non riesce a farle e dice va bene io torno domani e facciamo un esame approfondito allora in quel momento dico allora forse in questo momento che si capisce quale sia la bontà del ricordo di Mario Frigerio il problema è che da qualche minuto prima che il dottor Cetti arrivasse ovvero dalle 11.49 del 28 dicembre alle 9.55 del 3 gennaio le intercettazioni di Mario Frigerio spariscono non c'è nulla agli atti anche questo non è possibile e allora che cosa significa siccome Mario Frigerio ha riconosciuto Olindo Romano ufficialmente con una videoregistrazione il 2 di gennaio del 2007 ha detto Odolindo conosce un signore che si chiama Olindo Romano lo conosce è proprio quello adesso gli sfuggiva il nome è sicuro non ha dubbi e le sue intercettazioni sono scomparse dal 28 dicembre al 3 gennaio significa che lui ha riconosciuto come suo aggressore Olindo Romano esattamente nei giorni in cui sono scomparse le sue intercettazioni e questo che cosa comporta comporta che noi non sappiamo essendo scomparse le intercettazioni quale fosse la bontà del ricordo di Mario Frigerio non sappiamo cosa sia successo al testimone non sappiamo se sia stato suggestionato non sappiamo niente e il problema è che la difesa quando ha provato a chiedere conto di queste intercettazioni queste intercettazioni non sono state date perché è tutto qua ma non può essere tutto lì perché non è che per 5 giorni le microspie non funzionano ovvero se per 5 o 6 giorni le intercettazioni non funzionano i carabinieri devono scrivere le microspie ci deve essere un verbale e invece non c'è nulla esattamente come non c'è nulla sulla scomparsa delle intercettazioni in casa di Olindo Romano e Rosa Bazzi e questa è una cosa che francamente destano ulteriori perplessità perché nel corso della sentenza di primo grado a Como i giudici scrissero che era motivo di sospetto contro Olindo Romano e Rosa Bazzi il fatto che mentre tutti nei giorni successivi alla strage parlavano della strage loro stavano zitti questa cosa non è assolutamente vera e lo dimostra il fatto che finché ci sono le intercettazioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi il 12 di dicembre loro parlano solo della strage e poi per ragioni ignote le intercettazioni da una certa ora del 12 dicembre a una certa ora del 16 dicembre non sono state allegate agli atti dai carabinieri perché non si sa ma sono i carabinieri che non hanno allegato le intercettazioni non loro che non parlavano perché infatti appena tornano le intercettazioni loro continuano a parlare della strage ecco questi sono fatti che io ho avuto modo di scoprire e che destano notevoli dubbi su quello che sia accaduto e notevoli anomalie sull'andamento delle indagini con questo giusto per come possiamo dire inquadrare una situazione che tutti davano per chiara perché finalmente l'opinione pubblica ha cominciato a capire che qualcosa in queste indagini non torna ecco di tutte queste vicende a processo non si è mai discusso della scomparsa delle intercettazioni della scomparsa delle intercettazioni anche di Olinda Rosa degli audio del testimone non sono mai entrati a processo perché a processo su migliaia di intercettazioni del testimone di Olinda Rosa ne sono entrate sì e no cinque tutto il resto non è mai entrata a dibattimento ma innanzitutto voglio ricordare una cosa che ci segue tu hai nominato più volte il podcast che stai producendo e che hai prodotto già in parte credo che ci saranno altre puntate prossimamente dove lo trovano perché voglierei farglielo sentire perché effettivamente sentite con le proprie orecchie io credo che sarebbe la cosa migliore che tu prendessi parte di questi podcast e facessi sentire che non sto inventando nulla dalla voce diretta del testimone che lui non ricordava nulla e quella frase dalle altre foto la possono sentire tutti se la metti in onda il canale è il canale youtube di fronte del blog che poi fronte del blog è il mio sito e il canale youtube fronte del blog lì abbiamo messo questo podcast che poi anche su tutte le piattaforme audio spotify audible eccetera però ecco sarebbe utile che tu le facessi sentire in modo che la gente capisca che non ci stiamo inventando nulla e che queste cose che sono come possiamo dire abbastanza clamorose perché sono successive all'asserito ricordo di Frigerio non sono mai entrate nei processi mai e infatti la domanda è proprio questa ma allora nei processi di che cosa si è discusso cioè quali sono i pilastri assolutamente inattaccabili su cui si è basata la condanna la confessione e come dicevi prima i due elementi che sono la testimonianza di Frigerio e la macchia di sangue sul battitacco e di queste cose che analisi si è fatta all'interno del dibattimento ecco all'interno del dibattimento posso dirti quello che è successo nel dibattimento di Como partiamo dalla macchia sull'auto perché per quello che riguarda le confessioni a Como le hanno considerate dettagliatissime e quindi erano colpevoli in appello quando si sono accorti che non erano affatto dettagliatissime hanno detto che loro volevano tenersi aperta una finestra alla ritratazione in futuro e quindi mischiarono il vero al falso che è una cosa mai sentita inedita inedita per quello che riguarda la macchia sull'auto all'interno del libro il grande abbaglio che uscì in concomitanza con l'apertura del processo di primo grado e che avevamo scritto basandoci soltanto sugli atti dell'accusa all'interno del libro mentre scrivevamo il libro ci avevamo accorti di un dettaglio ovvero la notte della strage la macchina di Olindo Romano fu perquisita dai carabinieri i nomi che erano sul verbale di perquisizione dei carabinieri riportavano gli stessi nomi di carabinieri che erano entrati nel palazzo della strage ecco dunque come dicevamo come poteva essere arrivata la macchia di sangue un carabiniero era stato sul luogo della strage aveva perquisito la macchina e il sangue per contaminazione era finito sul battitacco ci siamo perché non bisogna dimenticare un fatto che quella è l'unica prova scientifica che lega Olindo e Rosa alla strage e poi ci arriviamo a questo punto che cosa successe in aula una cosa che io non avevo mai sentito in vita mia il comandante dei carabinieri di erba disse sì che effettivamente i carabinieri che risultavano sul verbale di perquisizione erano gli stessi che poco prima erano saliti sul luogo della strage ma disse che la perquisizione materialmente l'aveva fatta un quinto carabiniere che era l'unico che sul verbale non c'era e non era salito sul luogo della strage e io rimasi basito in uno stato di diritto non funziona così lui disse però che altrimenti il carabiniere si offende quando anche fosse plausibile una cosa del genere e in uno stato di diritto non è plausibile perché fa fede il verbale lo ha detto solo in aula non lo ha detto nel corso delle indagini non lo ha spiegato con un verbale a parte ai pubblici ministeri lo ha detto solo in quel momento in aula però questo è il meno andiamo oltre perché questa macchia di sangue viene recuperata la sera del 26 dicembre del 2006 ovvero lo stesso giorno in cui Mario Frigerio avrebbe asseritamente riconosciuto davanti ai pubblici ministeri Olindo come suo aggressore avendolo riconosciuto in teoria Olindo doveva essere indagato e quindi quella quell'esame sulla macchina di Olindo doveva essere fatta con l'avvocato con l'avvocato il consulente di parte eccetera invece Olindo sarà iscritto sul registro degli indagati solo il 27 il giorno successivo quella sera la macchina di Olindo viene portata in caserma anzi viene invitato Olindo in caserma e la repartazione la svolge il brigadiere Carlo Fadda su questo verbale io ho scritto moltissimo perché il brigadiere Carlo Fadda è l'unico e l'unica cosa che sa è che in una foto da lui scattata dentro un cerchietto che lui ha disegnato ci sarebbe la macchia di DNA di una delle vittime perché giusto per chiarire la macchia di sangue sulla macchina di Olindo non è mai stata documentata da nessuna parte cioè quella è una macchia che avrebbe dovuto essere evidenziata con il lumino in una foto al buio invece c'è una foto normale dove è stato disegnato sopra un cerchietto all'interno del quale il solo brigadiere Fadda sostiene che ci sia la macchia di sangue chiaro quindi non c'è alcuna documentazione ci stiamo fidando della parola del brigadiere Fadda poi questa macchia scusami viene tamponata e il tampone è analizzato e questa è la procedura che è stata usata? sì ok ora andiamo oltre prima di poi ti parlo del verbale che cosa succede il brigadiere Fadda va in aula e gli chiedono cosa abbia fatto lui all'interno di quel verbale all'interno per fare quelle operazioni lui dice che era da solo che ha passato prima una lampada mini crime scope che tuttavia non aveva rilevato nulla perché gli chiedono non ha rilevato nulla perché lui dice che se la macchia è stata lavata sostanzialmente è degradata il mini crime scope non individua nulla ok allora aveva passato il luminol e il luminol aveva evidenziato la macchia di sangue ma non c'è una foto del lumino su quella macchia chiaro dopodiché viene sentito il professor Carlo Previderè di Pavia che è quello che ha analizzato la macchia di sangue cioè il tampone che è stato estratto nella macchia e il professor Previderè descrive quella macchia come una macchia originale che ha subito pochi passaggi ora come fa una macchia allo stesso momento a essere degradata e originale dall'altra parte come fa ad essere la stessa macchia ora io mi metto ad analizzare il verbale del brigadiere Fadda e mi accorgo che l'orario del verbale è sicuramente sbagliato perché la macchina di Olindo era intercettata e Olindo l'ultima intercettazione iniziava alle 22.30 e finiva alle 23.15 quindi le operazioni devono essere iniziati sicuramente nei 10-20 minuti successivi mentre l'orario del verbale è 23 quindi questo scusami ma ci dice anche con certezza che questo è avvenuto nella giornata del 26 dopo il riconoscimento che ci sarebbe stato da parte di Frigerio è quello che ho detto che era nello stesso giorno in quel momento lì in teoria doveva già essere indagato ok quindi lui non sa l'orario ma lui non sa neanche perché gli verrà chiesto se c'erano soltanto quelle fotografie lì lui dice sì non sa neanche invece che quelle fotografie lì non erano le uniche perché fu usata una macchina fotografica Finepix Fujifilm 7000 mi pare che è una macchina digitale che come tutte le macchine digitali lascia traccia a che io vado a vedere le foto originali e mi accorgo che mancavano tre foto quindi non erano state scattate non erano state scattate solo quelle ne erano state scattate altre che però non sono agli atti lui disse che erano in quell'ordine non è vero neanche questo non è vero affatto che erano in quell'ordine e su questo poi mi sono dilungato a scrivere ma non è questo il punto lui ha detto che era da solo ma non è vero neanche questo perché alzando la luminosità di una fotografia io mi accorgo che sullo sfondo della Seat di Olindo c'era un carabiniere che si copriva la faccia con l'osporzione del luminol quando le Iene andarono a chiedergli il conto di questa scoperta che avevo fatto lui disse che era venuto soltanto a portargli una cosa e poi era andato via questo non è vero perché ho detto l'auto di Olindo era intercettato sicché nel podcast ho messo l'audio in cui si sente un carabiniere asseritamente Carlo Fadda chiedere aiuto per alcune operazioni ad una persona perché dico asseritamente perché quel verbale la difesa l'ha trovato bianco non firmato mentre la procura ce l'aveva firmato su questo aspetto della macchia di sangue il PG di Milano Cuno Tarfusser ha basato parte della sua richiesta di revisione aspetta aspetta il dettaglio sembra secondario ma non mi sembra sì in che senso la procura ce l'aveva firmato e la difesa la coppia che aveva la difesa non era firmata ma la difesa non l'ha ottenuto dal fascicolo della procura l'ha ottenuto dal fascicolo della procura però così è è un dettaglio che non volevo passarsi in secondo piano no ma infatti questo rientra anche ho detto nella richiesta di revisione del PG di Milano Cuno Tarfusser il quale evidenzia la consulenza per la difesa del genetista del noto genetista Marzio Capra il quale fa notare un dettaglio in più rispetto a queste che erano come possiamo dire delle scoperte autonome giornalistiche ovvero che sul battitacco dell'auto di Olindo differentemente dalle altre parti su cui era stato spruzzato il luminol su quel battitacco dove è stata trovata la macchia di sangue non c'è traccia del liquido del luminol sembra non esserci traccia e questa è una cosa che francamente inquieta ma è uno degli elementi messi in luce in evidenza proprio dal PG Tarfusser nella sua richiesta di revisione perché chiaramente se non c'è traccia del luminol si dovrebbe capire come possa essere stata trovata una macchia di sangue lì di certo noi sappiamo che l'unica cosa che di quel verbale sapeva Fadda perché non sapeva l'orario esatto non sapeva neanche la targa della macchina non sapeva il numero delle foto non sapeva l'ordine delle foto l'unica cosa che lui sa e non sapeva la cosa surreale non sapeva che non era da solo a fare quegli esami e questa è la cosa surreale l'unica cosa che sa è che all'interno di una foto normalissima con sopra disegnato un cerchietto c'era una macchia di sangue di una delle vittime dicevo che questa è l'unica traccia che lega i coniugi alla strage perché il RIS cercò ovunque nel palazzo della strage e in casa di Olindo Romano e Rosa Bazzi e non trovò nulla non trovò né una traccia di Olindo Rosa nel palazzo della strage né traccia delle vittime nel loro appartamento nel palazzo della strage dissero che l'acqua aveva lavato via tutto dissero in tv dissero sui giornali non lo dissero in aula una fesseria del genere perché che cosa succede all'interno del palazzo sono state trovate tracce delle vittime dei vigili del fuoco dei carabinieri dei soccorritori di sconosciuti ma non di Olindo e Rosa in casa di Olindo e Rosa invece non hanno trovato nulla e questo è ancora più difficile da spiegare perché perché non è che Olindo Romano e Rosa Bazzi erano propriamente vicini di casa di Raffaella Castagna erano parzialmente vicini cioè una parte dell'abitazione di Raffaella Castagna insisteva sulla loro ma loro per entrare nel loro appartamento sarebbero dovuti scendere dal cancelletto principale percorrere 30 passi aprire la loro porta di casa ed entrare in casa in questi 30 passi e sulla maniglia della porta dove dovranno essere lordi in quel momento di sangue non c'è alcuna traccia di sangue e questo è impossibile da spiegare ora questo è un dettaglio che per ora riguarda il RIS ma che diventa cruciale nella morte di Valeria Cherubini Valeria Cherubini era la moglie di Mario Frigerio fu trovata sotto la tenda della porta finestra della mansarda in cui viveva lei abitava al piano superiore di Raffaella Castagna in posizione prona con le mani come a protezione del capo quindi al secondo piano della palazzina in pratica esattamente ora nell'istante piano che non era stato incendiato non era stato incendiato quindi lì non era stato lavato era arrivato il fumo il monosodio di carbone ma non era stato lavato con l'acqua dei pompieri in ogni caso ora che cosa succede e questo è un dettaglio importante forse il più importante di tutti per scagionare Olindo Romano e Rosa Bazzi per fare colpevoli Olindo Romano e Rosa Bazzi i giudici hanno dovuto compiere un triplo salto mortale della logica perché hanno dovuto mettere nero su bianco una cosa che in natura non esiste partiamo da un particolare quando arrivano i primi soccorritori sul pianerotolo di Raffaella Castagna si chiamano Glauco Bartesaghi e Vittorio Ballabio trovano Mario Frigerio tutti e tre sia Mario Frigerio che Bartesaghi che Ballabio sentono Valeria Crerubini gridare aiuto aiuto dalla mansarda i soccorritori provano a salire le scale ma c'è troppo fumo non ci riescono e devono desistere allora tornano giù di sotto Frigerio lì in quel momento tornano giù di sotto e dicono di chiamare i pompieri ok e poi cercano di tornare di sopra tornano di sopra quando loro scendono di sopra al piano della Raffaella Castagna dove c'era al primo piano ci siamo ok quando loro scendono in mezzo alla corte è pieno di gente chiaro che era anche i curiosi che pensavano naturalmente a un incendio non pensavano a una strage no ok ed è pieno di gente lì ok fuori dalla porta fuori dal portoncino diciamo per entrare nel palazzo ok chiaro ora Valeria Cherubini è la persona che ha subito più colpi 43 colpi 8 dei quali le avevano fracassato il cranio aveva la gola squarciata e la lingua tagliata ok se come logica impone è stata ammazzata e gli è stata tagliata la gola dopo che ha gridato aiuto se no come fa a gridare aiuto giusto sì Olindo e Rosa se fossero stati gli assassini non sarebbero più potuti scendere da lì perché perché sotto c'erano i soccorritori e non potevano più fare i 30 passi e andare nella loro porta giusto chiaro e sarebbero per forza dovuti fuggire da un'altra parte ma se anche fossero fuggiti da un'altra parte non sarebbero più potuti rientrare nella corte perché erano lordi di sangue giusto e lì c'era un sacco di gente quindi non possono essere stati loro invece i giudici che cosa hanno scritto hanno scritto che Valeria Cherubini con 43 colpi in corpo otto dei quali le avrevano fracassato il cranio con la gola squarciata e la lingua tagliata percorse due rampe di scale per un totale di 18 gradini in totale apnea perché non c'è sangue nei polmoni e senza neanche deglutire il sangue perché non c'è sangue nello stomaco perdendo soltanto 13 gocce di sangue e soltanto una volta giunta sotto la sua mansarda dopo aver fatto questo percorso in queste condizioni gridò con la gola squarciata e la lingua tagliata la parola aiuto prima di accasciarsi e perdere tutto il sangue ora se tu racconti questa cosa a un bambino delle scuole elementari e gli chiedi se sia possibile ride questa invece è stata considerata una cosa plausibile dai giudici di primo grado secondo grado e Cassazione c'è una persona che con la lingua scarciata e la gola tagliata grida aiuto dopo aver preso 43 colpi in corpo e il cranio fracassato questa è stata considerata una cosa plausibile ora non è solo questo la nuova c'è una nuova prova soltanto solo questo una nuova tra le nuove consulenze perché hanno dovuto chiedere una consulenza di un esperto anche per dimostrare una cosa che dovrebbe essere logica è stato dimostrato da questi nuovi consulenti che la donna non era più in grado di camminare quindi non avrebbe potuto percorrere in apnea ricordiamolo quei 18 gradini e due rampe di scale ecco però questa io non voglio dire ma quando tu hai parlato di oltre ogni ragionevole dubbio voglio ricordare che la Cassazione ha chiuso il caso dicendo che sulla vicenda si addensano numerosi dubbi e aporie le aporie sono le domande senza risposta ma allora se ci sono numerose aporie nemmeno una come si fa ad essere certi oltre ogni ragionevole dubbio io dico soltanto se voi pensate che Olindo e Rosa siano colpevoli sappiate che dovete credere a questa cosa che va contro ogni legge della fisica che una donna in quelle condizioni con la gola squarciata e la lingua tagliata e il cranio fracassato impossibilitata a camminare abbia percorso in apnea quelle due rampe di scale e abbia sillabato la parola aiuto prima di perdere solo in quel momento tutto il sangue ma secondo me c'è anche di più non solo deve averle fatte in apnea e poi gridare aiuto per poi morire con la gola e la lingua tagliata ma deve avere anche avuto il tempo di aspettare che arrivassero i soccorritori perché se la lingua gli fosse stata tagliata sul pianerottolo dove c'era al primo piano e lei fosse salita gli altri due dovevano scendere in quel momento Lindo e Rosa ma non hanno incrociato i soccorritori quindi sono scesi prima dei soccorritori o sbaglio? nel corso del processo cambiarono tutti gli orari di come possiamo dire della strage ok? tutte le testimonianze dilatarono e strinsero i tempi in base a quelle che erano lì come possiamo dire necessità necessità purtroppo la realtà è che quando c'è stato il processo tutti avevano dato già il caso per chiuso e tra l'altro c'è una cosa che io ho preso da questo tuo libro ma non avevo mai sentito parlare c'è un testimone che sulle televisioni sui giornali io non avevo mai sentito che è qualcuno che viveva al piano terra che dallo spioncino in realtà ha una cognizione di orari che mi sembrano essere anche coerenti e compatibili questa era la famiglia di Abdelkarim Kalouf che era il siriano che abitava al piano terra lui disse lui e la moglie dissero che c'erano dei rumori di passi all'interno dell'appartamento di Raffaella Castagna già da due ore prima della strage avevano sentito queste cose momento in cui l'appartamento doveva essere vuoto vuoto e c'è un dettaglio che poi racconterà sostanzialmente quando succede quando sentono tutti questi rumori Kalouf prova a guardare dallo spioncino per capire che cosa succede e quando viene chiamato fuori si accorge che sullo spioncino qualcuno aveva messo un pezzo di scotch ora Olindo e Rosa li hanno fatti passare talvolta per decerebrati talvolta per geni del male ipotizzare che avessero messo anche un pezzo di scotch sullo spioncino per evitare al vicino di vedere mi sembra francamente fantasioso per questo nel libro ipotizzavamo l'opera di un commando e peraltro quando sono riuscito a ritrovare dopo 15 anni un testimone la cosa è stata corroborata perché succede questo all'interno dell'appartamento di Raffaella Castagna a Zuzmarzuk risultava residente un altro tunisino anche se fisicamente non viveva lì ma risultava residente lì in quell'appartamento si chiama Abdi Kais Abdi Kais successivamente fu condannato insieme ad Azzuzmarzuk e ai cugini al fratello di Azzuz per traffico di droga poco tempo dopo la strage Abdi Kais scrisse dal carcere mi pare di Melfi una lettera a Cronacavera a settimana del Cronacavera dicendo che aveva qualcosa da dire sulla strage quando io iniziavo ad occuparmi del caso erano passati 11 mesi quando il direttore di Cronacavera mi segnalò questa cosa e io provei a contattarlo Abdi Kais era già stato o trasferito di carcere o espulso non rammento bene però Abdi Kais era una persona che io ho cercato a lungo finché non l'ho trovato sui social è stato lui in realtà a trovarmi e mi ha raccontato alcuni fatti e che poi ha verbalizzato anche con la difesa di Olinda Rosa ovvero Abdi Kais raccontava che in quel periodo c'era una faida tra i tunisini del gruppo del fratello di Azuz Marzouk e un gruppo di marocchini ma era una faida vera tanto che erano già arrivati a coltellate e lui era uno di quelli che si era preso le coltellate poco tempo prima della strage di Erba lui dice che questa banda di marocchini tentò di fare eruzioni con i coltelli negli appartamenti di Merone dove abitavano i parenti di Azuz e dove abitava anche lui e soltanto per un caso questa cosa fu sventata questo attacco fu sventato ma se ci pensi sarebbe potuto succedere la stessa cosa che accadde qualche mese più tardi a Erba questo è un dettaglio molto importante perché lui disegna quello che era l'ambiente in quel periodo peraltro all'epoca il gruppo dei tunisini di Azuz era già attenzionato dalla guardia di finanza perché c'erano già delle indagini in corso questi tunisini erano già intercettati purtroppo la difesa non è mai riuscita a entrare in possesso di queste intercettazioni della guardia di finanza che inizialmente ebbe una delega alle indagini ma la cosa che mi pare paradossale è che a quanto mi risulta nemmeno Abdi Cais che in quel processo fu imputato e condannato si è mai riuscito a entrare in possesso di quelle intercettazioni diciamo che quello che emerse negli anni successivi era un quadro ben diverso dei sottoboschi di Erba di un'isola felice perché poi negli anni successivi la procura di Milano arrivò ad accertare la presenza di una locale di indrangheta proprio a Erba su questa locale di indrangheta un pentito Francesco Oliverio parlò di movimentazioni di centinaia di chili di droga alla settimana in tutto questo contesto la faida tra marocchini e tunisini per il controllo della piazza e dello spaccio potrebbe essere una pista determinante ma che non fu mai seguita dagli inquirenti fin dall'inizio e questa è una delle cose di cui mi accorsi mentre scrivevo il grande abbaglio si ipotizzò la vendetta trasversale si ipotizzarono tante piste agli atti di indagini sulla pista della vendetta trasversale sulla pista della droga agli atti non c'è nulla man mano che tu parli mi sembra fondamentalmente di essere in un incubo in un sogno in qualcosa di parallelo alla realtà perché quello che mi chiedo è qual è la tua sensazione innanzitutto che cosa ti ha spinto voglio chiederti proprio personalmente che cosa ti ha spinto ad occuparti di questo e qual è la tua sensazione rispetto al sistema della giustizia che cosa ti ha spinto ad occuparti della strage di erba il fatto diciamo di sangue o l'interesse tuo è nato dalla questione di giustizia allora io mi occupo di errori giudiziari e ingiuste detenzioni ormai da qualche decennio quando inizio a occuparmi di questa vicenda avevo quasi smesso diciamo l'attività di giornalismo attivo perché dirigevo una collana di libri inchiesta se non che mi contattò Felice Manti e mi disse guarda che c'è il serio rischio che questi due o l'Indo Romano e Rosa Bazzi siano innocenti era il novembre del 2007 e io ebbi la medesima reazione che hanno tutti coloro che si sono approcciati con questa storia sì ma come c'è il testimone c'è la macchia sull'auto c'è la confessione che cosa vuoi di più se non che iniziando a leggere le carte mi accorse delle cose non stavano affatto come le avevano raccontate e la cosa che come possiamo dire mi ha dato fastidio a pelle e che c'era il rischio che ci fossero due innocenti all'ergastolo dei quali non importava nulla a nessuno se non ai loro avvocati che hanno seguito il loro caso gratuitamente con tutti i consulenti fin dall'inizio non hanno avuto nemmeno il gratuito patrocinio per essere chiari e a me dà fastidio che i più indifesi siano completamente lasciati allo sbando perché è una deformazione professionale se no fai un altro mestiere e tant'è che su questa cosa qua ci siamo giocati la reputazione sia io che Felice Manti perché devi pensare che quando inizia il processo nel 2008 noi veniamo linciati dall'opinione pubblica dai giornali dalle televisioni perché eravamo due giornalisti contro tutta la stampa italiana come noi vengono linciati gli avvocati ai quali cosa che credo più unica che rara accusa e parti civili rimproverano di non aver fatto il rito abbreviato di solito dovrebbe essere il contrario quindi noi abbiamo messo a repentaglio tutta la nostra reputazione però un conto è la reputazione un conto è l'onestà intellettuale io di errori giudiziari e di ingiuste detenzioni ne ho viste parecchie la cosa che posso darti per certa è che non esista alcun caso mediatico che si sia risolto con la soluzione degli imputati nemmeno in quello di Perugia perché in quello di Perugia alla fine un condannato c'è questa su questi casi mediatici su molti di essi io nutro enormi dubbi però la condanna dell'imputato in un delitto mediatico dà l'impressione che la giustizia in Italia funzioni in realtà se noi andiamo a vedere i dati della corte di Strasburgo da quando sono iniziati iniziata la raccolta credo dal 1950 ad oggi noi notiamo che l'Italia non è soltanto il paese più condannato per la lentezza processuale ma è il paese tra i più condannati anche per la violazione della seconda parte dell'articolo 6 sui trattati dei diritti dell'uomo ovvero la violazione dei diritti della difesa sono così tante queste violazioni che nel 2011 la corte costituzionale ha messo la sentenza 113 la quale sostiene che in caso di condanna dell'Italia da parte di Strasburgo per violazione dei diritti della difesa il processo possa essere rifatto ecco questa è una fotografia amara che noi abbiamo della corte di Strasburgo soltanto che non se ne parla sui giornali non se ne parla perché solitamente si parla di giustizia quando si tratta di grandi processi di politici di personaggi influenti mai mai quando si parla di diseredati e questo non va bene perché significa non conoscere fondamenta del giornalismo insomma questo se si ignorano casi del genere quindi io sono andato avanti per anni diciamo che devo molto a Umberto Brindani che come direttore dell'Oggi dopo aver letto il grande abbaglio mi chiamò e mi disse di andare avanti e lì sono nate tutte le scoperte che ho fatto successivamente tieni conto che prima che ne parlassero le Iene e il documentario Tutta la verità di Fulvio Benelli e Cristiano Barbarossa noi abbiamo avuto contro praticamente quasi tutti io ricordo di un intervista che mi chiese con forza la trasmissione chi l'ha visto e che dopo essere stata realizzata non andò mai in onda io come posso dire pensai a una questione di tipo editoriale hanno cambiato idea perché loro avevano mandato in onda una prima puntata era successo un polverone prima della Cassazione una prima puntata già con la tua intervista no una prima puntata di ricostruzione dove mettevano in fila i fatti va bene semplicemente in fila i fatti cosa che non era mai avvenuta prima in televisione successo un polverone io pensai a una questione di tipo editoriale se non che a Cassazione avvenuta l'estate successiva nel corso dell'estate a porta a porta era ospite Pino Rinaldi uno degli autori storici di chi l'ha visto Bruno Vespa mandò in onda un servizio finalmente in cui venivano messe in evidenza le incongruenze delle indagini quando si tornò in studio Vespa diede la parola a Rinaldi e Rinaldi disse spero che voi non abbiate problemi perché noi per aver semplicemente messo in fila i fatti come avete fatto voi abbiamo avuto anche un richiamo della commissione di vigilanza qual è la questione è che naturalmente il servizio presentato a porta a porta da Bruno Vespa era successivo alla Cassazione il caso era chiuso il richiamo cui fa accenno Rinaldi a chi l'ha visto sarebbe venuto prima della Cassazione questa cosa mi inquieta perché vorrebbe dire che è impossibile tenere una linea diversa da quella che è la linea della procura o quello che pretende l'opinione pubblica nel momento in cui è ancora prevista la presunzione di innocenza ovvero prima che il processo sia chiuso definitivamente l'inviato di chi l'ha visto recentemente ha rilasciato una lunga intervista a Radio Libertà inviato di chi l'ha visto Gialloretto Carbone che si era occupato della prima puntata e che aveva pronte tutte le altre puntate e lui a Radio Libertà ha detto che la trasmissione è stata bloccata da chi io non lo so chi ha detto la Carbone Alla luce di tutto quello che racconti la domanda è io ho sentito alla fine del servizio delle Iene fatto da Antonino Monteleone che forse ha contribuito fortemente a lanciare nell'opinione pubblica insomma queste cose qui perché effettivamente prima forse non era così semplice ecco immagino che da quel momento le cose siano cambiate anche per te forse altri tuoi colleghi hanno avuto il coraggio o si sono convinti che la realtà potesse essere diversa però comunque il servizio si chiudeva con una frase di Olindo il quale dice la giustizia è una cosa in cui spero continuo a sperare ma non ci credo più io credo che te la faccio come domanda io mi chiedo tante volte se come formalmente dovrebbe essere viviamo in uno stato di diritto certo che di fronte a tante cose che succedono questa convinzione vacilla e deve vacillare la giustizia che cos'è per Edoardo Montolli non voglio avventurarmi in discorsi filosofici io voglio raccontare un aneddoto su questo che ho dimenticato di dire prima su questo processo quando il comandante dei carabinieri di erba in aula dice di non aver fatto il nome di Olindo Romano a Mario Frigerio e invece glielo fece nove volte la difesa chiese di mandare in aula l'audio dell'intercettazione in cui lui faceva invece il nome di Olindo a Mario Frigerio quell'audio non fu mandato in aula alla difesa tagliarono più di 50 testimoni più di 50 che cosa successe però successe che a un certo punto la corte uscì e per la prima volta nella storia formò la prova in aula ovvero fecero sentire l'audio di Frigerio del 15 dicembre 2006 mentre riconosceva un olivastro e fecero sentire un pezzo di quell'audio in quel pezzo di audio si sentiva Frigerio dire è stato Olindo quell'audio non l'aveva sentito non l'aveva sentito il perito dell'accusa non l'aveva sentito il perito della difesa non l'aveva sentito il perito della corte ma soprattutto non l'avevano sentito i presenti a quell'interrogatorio perché non l'aveva sentito il PM Pizzotti non l'aveva sentito l'avvocato di Frigerio Manuel Gabrielli non l'aveva sentito il medico che era presente non l'aveva sentito l'ufficiale giudiziario soprattutto è una cosa assolutamente assurda che mentre stai descrivendo una persona olivastra e inviti a cercarla tra gli extracomunitari che vivono in casa di Raffaella Castagna Zuz Marzuc e dici che non la conosci dici è stato Olindo è una cosa assurda se hai detto è stato Olindo che il giorno dopo tu faccia mandare il fax dal tuo avvocato dicendo che l'aggressore era più alto di Frigerio di 6-10 cm è assurdo con quest'audio però si chiuse il processo di primo grado dando per certo che Olindo e Rosa fossero i colpevoli la considerazione dei giornalisti non fu quella che ti ho fatto io che è impossibile che mentre fu a che cosa servono i periti a niente vado avanti perché voglio arrivare al punto in appello la difesa presentò una consulenza dove si dimostrò che quell'audio era stato modificato la frase originale con un'amplificazione la frase originale stavano uscendo la frase stavano uscendo è diventato è stato Olindo i giudici dell'appello presero per buona la consulenza della difesa e dissero che c'era stata un'involontaria modificazione dell'audio e come viene stabilito l'involontaria? lo stabilirono così quel programma era stato modificato con un programma per modificare il suono che si chiama Cool Edit 2000 da parte di chi materialmente? questo non è emerso niente non c'è un indagato nessuno a quel punto uno pensa che riapre il dibattimento visto che è stata la ragione per cui è stato chiuso il processo di prima il dibattimento non è aperto il caso finisce si torna a parlare con le Iene molti anni dopo di questa vicenda il magistrato Kuno Tarfus è presente una richiesta di revisione e in quel momento in alcune trasmissioni televisive viene fatto risentire quell'audio che era un audio accelerato e si continua a dire quella frase è stato lindo quando è già agli atti che lui non aveva detto è stato lindo quindi tu mi dici che cos'è la giustizia che cos'è il circo mediatico per esempio la difesa è sempre stata accusata negli ultimi anni di circo mediatico il circo mediatico sulla strage di erba c'è stato ed è qui che c'è la commistione tra giustizia e stampa peccato che l'unica a non partecipare al circo mediatico sia stata la difesa e non ha voluto partecipare a tal punto che a un certo punto chiese di spostare il processo per quello che stava succedendo sui giornali e in televisione perché purtroppo quello che non è chiaro solitamente alla gente è che quando un processo è in corte d'assise i giudici sono persone come me come te che guardano la televisione guardano i giornali non sono togati per la gran parte e si fanno fortemente influenzare da quello che viene detto in tv e viene scritto sui giornali e in quel periodo in tv e sui giornali queste cose che avevamo messo sul grande abbaglio delle cose che erano state ripetute non c'era traccia sai che di cosa c'era traccia? c'era traccia della lavatrice di Rosa che lavava il sangue quella notte perché questa è una leggenda che si è portata avanti per anni e che tuttora in alcune trasmissioni televisive dicono peccato che nel rapporto del comandante Gallorini del 16 dicembre 2006 cinque giorni dopo la strage ci fosse già scritto che nei panni che erano in quella lavatrice non c'era alcuna traccia di sangue oggi 2023 17 anni dopo io vedo in televisione ancora gente che parla della lavatrice di Rosa Bazzi degli occhi di Olindo Rossi di questo si parla di leggende metropolitane non di fatti concreti e se tu la giustizia la affidi a giornali e trasmissioni che si affidano soltanto a veline che non svolgono il lavoro di giornalisti in un processo che è in corte d'assise tu la giustizia non la trovi più tu trovi la giustizia di popolo io ricordo che il processo si aprì con un avvocato che chiese la pena di morte dice bisognerebbe ripristinare la pena di morte le camere penali non dissero nulla ecco io credo che questo non sia uno stato di diritto ma non è non è che per questo non si debba parlare dei casi anche nel corso del processo il problema è come se ne parla e il problema è che chi fa il giornalista faccia veramente il giornalista e non un altro mestiere perché il mestiere del giornalista non è quello dell'inquirente e non è neanche quello del difensore perché noi quel libro lo abbiamo scritto basandoci esclusivamente e lo abbiamo premesso sugli atti dell'accusa ma abbiamo cercato di fare un lavoro giornalistico senza fare favori a nessuno questo è quello che è emerso ma se tu fai un'altra cosa per avere sempre più notizie purtroppo la giustizia non c'è più quali sono secondo te i diritti che sono stati più violati durante questo processo per la difesa se ce ne sono stati io per esempio mi viene in mente un episodio che anche questo viene ripetuto abbastanza spesso e cioè che la difesa di Olin De Rosa non abbia voluto o abbia deciso di non fare il controesame quando c'era Frigerio ma non è vero questa è un'altra delle leggende che hanno messo in circolazione loro tentarono in tutti i modi di controinterrogare Frigerio ma furono interrotti continuamente sia dal pubblico ministero sia dagli avvocati di parte civile sia da Frigerio che diceva vergognatevi loro non sono riusciti a farlo quel controinterrogatorio ci sono gli atti i verbali uno se andasse a vedere i verbali si accorgerebbe che le cose stanno come ti sto dicendo io non come è stato scritto sui giornali ci sono i verbali non fidatevi più di quello che scrivono i giornali guardate i verbali guardate il video non sono riusciti a finirlo quel controinterrogatorio ed è una delle violazioni che ha subito la difesa così come i 50 più di 50 testimoni tagliati così come il fatto che le intercettazioni non siano entrate a dibattimento così come come il fatto che quelle altre intercettazioni non siano state trascritte così come il fatto che siano scomparse delle intercettazioni senza alcuna giustificazione così come nelle fasi successive siano stati distrutti dei reperti sono stati distrutti i reperti la mattina in cui la Cassazione doveva decidere dell'incidente probatorio la mattina stessa dal tribunale sono andati a distruggere i reperti e la Cassazione doveva decidere e c'era il divieto espresso di due giudici diversi di bruciare quei reperti e quei reperti sono stati bruciati e non è successo niente ma qualcuno per questo è stato indagato? no, sì e non è successo niente la sua posizione è stata archiviata? certamente questa è la realtà qual è lo stato attuale delle cose? cioè adesso che prospettive ci sono? lo stato attuale delle cose è che per la prima volta forse la seconda un sostituto PG Cuno Tarfusser magistrato di altissimo profilo per dieci anni alla corte penale dell'AIA per intenderci quello che è indagato che è Daffi ha presentato una richiesta di revisione questa richiesta di revisione è stata con dopo molti mesi inviata finalmente a Brescia alla corte d'appello di Brescia dal procuratore generale di Milano Francesca Nanni la quale ha accompagnato questa richiesta di revisione con un parere negativo dicendo appunto che secondo lei non ci sono gli estremi per una revisione e dicendo per esempio che in un'intervista che questi aspetti erano stati ampiamente dibattuti a processo ma è rituale che il procuratore capo è assolutamente il rituale questo come sostiene la difesa però io voglio sottolineare questo che lei ha detto in questa intervista che sono stati ampiamente dibattuti nei processi siccome come ti ho detto gran parte di queste scoperte che poi sono state periziate le ho fatte io soprattutto sugli audio e il procuratore Cuno Tarfusser cita l'episodio del 25 dicembre dell'incontro di cui non c'è traccia tra i carabinieri e Frigerio e quell'episodio l'ho scoperto alla vigilia della Cassazione posso dire serenamente che quelle nuove prove non solo non sono state ampiamente discusse nei processi ma nel processo ci sono proprio entrati questo è il punto perché le intercettazioni entrate a dibattimento erano una manciata quindi non ci sono semplicemente non ci sono mai entrati quindi non è vero che sono stati ampiamente dibattuti in questo momento il pallino è in mano alla corte d'appello di Brescia la quale se ritiene opportuno chiederà il parere della procura generale di Brescia non di Milano ok e poi dovrà decidere se aprire alla revisione o se respingere la richiesta di revisione del sostituto BG con Tarfusser io però voglio sperare che di fronte al prestigio di un magistrato di tale elevatura la corte d'appello valuti attentamente quella che è la richiesta del sostituto BG perché non è che stiamo parlando di un magistrato di primo pelo stiamo parlando di un magistrato di prestigio internazionale di altissimo livello e siamo sempre in attesa che la difesa presenti una propria richiesta di revisione con le proprie consulenze e con materiale che certamente non è non fa parte della richiesta di revisione presentata da Tarfusser e quali sono i tempi per queste cose che tu sappia i tempi cioè la risposta da Brescia i tempi io non li non li posso dire io credo che tutti si aspettino che nei prossimi due mesi qualcosa succeda credo che si aspettino addirittura che qualcosa possa succedere a settembre però io oggettivamente i tempi non li so io ho visto fare altre richieste di revisione alcune si sono i giudici si sono pronunciati prima altri hanno atteso diverso tempo però è la prima volta che un caso mediatico del genere può arrivare davvero a una revisione nel momento in cui c'è ho detto un magistrato di altissimo profilo che ritiene l'indo romano e Rosa Bazzi innocenti allora io vorrei dire solo questo dovesse arrivarsi alla revisione e dovesse accertarsi insomma con queste nuove prove che c'è stato un così grande abbaglio se lo vogliamo chiamare così per citare il libro e io credo che sarebbe un qualcosa di assolutamente epocale innanzitutto per l'appunto non c'è un precedente in questo senso e con un caso di così grande portata mediatica sarebbe un qualcosa io credo di assolutamente devastante per la giustizia italiana per la magistratura non sei d'accordo? no io darei una doppia lettura io credo che se la corte d'appello di Brescia leggerà con attenzione queste carte e arriverà a una decisione diversa io credo che per la prima volta la giustizia possa trovare un proprio riscatto perché troppo spesso la magistratura si chiude in se stessa e difende a volte decisioni che magari sono errate e che protraendosi nel tempo provocano più danno quello è un caso classico degli errori giudiziari molto spesso gli errori giudiziari non si manifestano dopo il primo dopo la prima istanza di revisione ma magari dopo un ricorso in Cassazione che rimanda una nuova corte d'appello e nel frattempo gli anni passano io spero che questa decisione da parte della corte d'appello di Brescia venga presa il prima possibile e soprattutto che venga presa realmente prendendo in considerazione prove che non sono entrate nel processo perché tutte queste prove non sono mai entrate nel processo io spero davvero che si arrivi a una lettura vera della della vicenda e che si possa fare giustizia di due persone che io ritengo assolutamente innocenti prove alla mano insomma questo speriamo che effettivamente questo possa essere ciò che accadrà e allora io ti ringrazio volevo dare una infarinatura a chi mi segue su questa cosa perché a me stanno a cuore le questioni di giustizia nel senso di quelle che ritengo essere questioni in realtà di mala giustizia credo che questo caso le rappresenti in pieno però voglio anche ricordare a tutti quanti che come abbiamo già detto se vogliono approfondire le cose e io li invito a farlo perché è l'unico modo effettivamente per avere contezza di quello che si sta parlando sicuramente possono trovare nel tuo libro nel tuo podcast anche che abbiamo già citato una serie di approfondimenti assolutamente necessari secondo me sicuramente di valore quindi ti ringrazio grazie a te e vorrei concludere questa chiacchierata che abbiamo fatto ricordando a tutti quelli che ogni tanto arrivano dicendo eh ma i processi mediatici abbiamo anche già diciamo accennato a questa cosa o volete sostituirvi alla magistratura volete sostituirvi ai giudici vorrei ricordare a tutte queste persone che se sono cittadini italiani ehm hanno delegato la gestione della giustizia ad un organo la magistratura che giustamente l'amministra su questo nessuno ha niente da dire eh è normale che sia così in uno stato di diritto però vorrei ricordare loro che quello essendo un potere delegato per l'appunto va eh comunque eh verificato controllo bisogna vedere quello che succede all'interno della giustizia altrimenti non è più una delega è un regalo a scatola chiusa e io non penso e non voglio dire che chi riceve questo regalo ne faccia ciò che ritiene più opportuno e come meglio crede però è una questione di anche solo formalità queste le cose che fanno i giornalisti o quelle che stiamo facendo in questo caso non sono processi mediatici per sostituirsi alla magistratura è semplicemente ciò che i cittadini secondo me devono fare guarda io mi sono limitato a informare io nel mio libro mi limito a informare che le cose non stanno così perché quando io dico Frigerio il 24 il 26 non ricorda io informo non ci credete c'è l'audio eccolo qua al processo non è entrato io informo che c'è stato un incontro non agli atti tra i carabinieri e Frigerio il 25 dicembre non ci credete questo è il documento perché non c'era il processo non lo dovete chiedere a me io vi informo il mio mestiere è quello di informare non quello di fare quello che accade nei salotti televisivi dove si fa sociologia ad accatto sui vicini la xenofobia queste cose qui che non stanno né in cielo né in terra bisogna basarsi sugli atti io informo su atti se gli altri non l'hanno fatto non è colpa mia se per 11 mesi tutti avevano detto che Frigerio aveva riconosciuto in olindo subito il suo aggressore e io dopo 11 mesi io e Felice Manti scriviamo che invece aveva riconosciuto un olivastro c'è qualcosa che non va a nella comunicazione della procura che aveva scritto che il suo racconto era subito coerente b nel lavoro dei giornalisti che non hanno fatto altro che fidarsi delle veline degli inquirenti senza andare a guardare le carte questo è il problema non è un problema come possiamo dire di informare durante il processo il problema è di informare informandosi altrimenti se si informa senza essere informati non si va da nessuna parte a quel punto esce il circo mediatico perché tu io ricordo benissimo su Erba tutti dicevano io non ho letto le carte però no se non hai letto le carte stai zitto perché di mezzo c'è la vita di due persone questa è la realtà assolutamente grazie di nuovo è stato un piacere grazie a tutti 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 grazie a tutti